In A1 in direzione Roma ci sono code a tratti tra Aglio e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci e Firenze Sud. In direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano, Sesto, Fiorentino e la variante di Valico. In A11 in direzione Firenze, code tra Prato Est e il Bivio per la A1 e in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla A15 un chilometro di coda per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tramvia ricordiamo la modifica del cantiere della rotatoria Forlanini. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!